Mi alzo la mattina e la vita comincia a prendersela con me. Poi inizio ad avere orgasmi e a rivivere la stessa giornata ora dopo. Ho già avuto almeno 7 orgasmi soltanto oggi. Io vengo ogni giorno dal 7 agosto al cinema. Per gli appassionati di cinema ecco una notizia direttamente da Hollywood. The Last Witch Hunter, prodotto da Lion Gate, vede l'ingresso nel cast di Michael Caine. Non c'è nessuna indicazione sul ruolo che dovrebbe avere Caine, però sappiamo che tra gli attori di questa pellicola fantasy ci saranno anche Vin Diesel e Rose Leslie. Alla regia ci sarà Breck Eisner, meglio conosciuto per The Crazies e Sahara. The Last Witch Hunter uscirà in sala nel 2016. Gli ho detto tutto? Sì. Al prossimo video.